Ho bisogno di lavorare, ho bisogno della giornata, ho bisogno che... allora devo stare zitta e devo lavorare. Mimma e Annibale sono due braccianti, un'italiana e un eritreo, una coppia come tante che si sono piegate sui campi del Tarantino a lavorare la terra per pochi spiccioli. Sono i protagonisti del docufilm girato da Maristella Baggiolini per la Fly CGL sul Caporalato, un reportage che il sindacato sta divulgando dal 2009 per sensibilizzare i lavoratori alla denuncia. Ieri è stato proiettato al Teatro Alcanices di Ginosa. Siamo vicino a tutte quelle donne che lavorano quotidianamente nei campi, chiaramente anche agli uomini, per cercare di dare un vero e proprio freno al cosiddetto caporalato, in quanto il problema che sta affliggendo questo settore, come dire, è pieno di illegalità. Assenti gli amministratori locali, un segnale negativo, ha sottolineato Stasi, che promette la vicinanza del sindacato a tutti coloro che vorranno denunciare sfruttamento e lavoro nero e auspica che si arrivi a definire quanto prima un disegno di legge condiviso e sostenuto da tutte le forze politiche e sociali del paese, che renda il caporalato un reato penale. Grazie a tutti.